Bella OIU, bentornati sul mio canale, siamo qui oggi per fare la reaction a Lecce-Napoli Partita importantissima perché dobbiamo confermare quello che abbiamo fatto in casa con Ludinise Quindi vediamo se è passato questo momento brutto e speriamo di vincere Noi ci vediamo ora in match, forza ragazzi Ostica! Dove è saltato? Si Ostica, bravo! Il più sottovalutato della squadra Qua è Simeone? Succaro! Riazione, dai, dai! Ma da Langhissà, Simeone? Bravo Meret, bravo! Meno male! Giai, Simeone Lalla da Langhissà era appunto così E fa le cose difficili Oh! Fermi a guardare Langhissà! Brava, bravi! Simeone! Ma mi pensavo che era gol Che azione che avevano fatto? Bravi, bravi Sieliski! Mamma mia, Sielu! Seconda occasione mangiata Siamo cresciuti un poco nel finale Ragazzi, è finito il primo tempo Napoli che non mi è piaciuto dopo il gol Ci siamo ripreso un po' nel finale Dopo l'occasione di Simeone E dobbiamo fare qualcosa di più Per fare il 2 a 0 Non mi sta piacendo Né Simeone né Lindstrom Quindi mi aspetto un cambio da loro due Vediamo cosa farà Garzia Noi ci vediamo al secondo tempo An chissà Garazke! No! Vai, Quara! Mamma mia! Che palla! Che gollo! Mamma mia! Mi ricorda Juve e Napoli-Juve Mamma mia! Grande Quara! Bravo Simeone! Sì ragazzi, sì! Bravo Nathan! No Meret! No Meret! No Meret! Ja! Fermi! Comunque Meret Non puoi pigliare questo gol Meno male Fallo di mano Sì Eh, fallo di mano Di Kristovic No Comunque Meret Quel gollo Non lo puoi pigliare Non lo puoi prendere Raspadu! Fa alcune La para Va bene Gianluca! Caetano! Dai Grande ragazzo! Questa è la dimostrazione Che Caetano Nel Napoli Può giocare E deve anche Cioè Non dico Qualche volta Giocare anche Il titolare Perché È un ragazzo Sottovalutatissimo Grande Sono orgoglioso Di Grande Gianluca Ricordi! Tira Caetano Tira Caetano Tira Caetano Tira Paulitano Ragazzi Dai Paulitano Sì 4 a 0 Adesso È finita la partita Testa A Madrid Cioè a Madrid Con Real Madrid Quindi Napoli Real Madrid Martedì Dico Armando Maradona È finito il match Partita Ottima no Del Napoli Buona partita Del Napoli 4 gol All'H Giusto così Abbiamo chiuso Quel periodo Buio Che stavamo Attraversando E adesso Dobbiamo Battere Real Madrid Per mettere La ciliegina Sulla torta A questo periodo Buio Quindi Noi ci vediamo Con La reaction Napoli Real Madrid Noi ci vediamo Un prossimo video Bella ragazzi